Due pneumatici tagliati e quanto ha ritrovato sulla sua macchina il sindaco di Grottaglie Ciro Dalò. E' lo stesso primo cittadino ad annunciarlo dal suo profilo social. Sono certo e mi piace pensare che sia stata una ragazzata, afferma Dalò. Questa mattina ho ritrovato la mia auto con due pneumatici tagliati. Se questo gesto invece volesse essere in qualche modo un'azione intimidatoria nei miei confronti, vi comunico, dice Dalò, che potete anche rendermi oggetto di questi miseri attacchi. Ma io non mi piego e non mi sono mai piegato ad atti e abietti. Il modo migliore per reagire ad episodi del genere, rileva il primo cittadino, è quello di andare avanti con maggiore determinazione, trasparenza ed onestà. Caratteristiche, sottolinea, che mi hanno sempre contraddistinto e rimettermi all'esito delle indagini da parte delle autorità competenti, che ne sono certo, faranno luce sull'accaduto.